zombie fantasmi streghe e creature della notte questo il regno di halloween questo è il regno che per l'intero mese di ottobre anima l'america una festa che originariamente era legata alle culture degli immigrati e dalla fede religiosa personale al termine del secondo conflitto mondiale i bambini si impossessarono della festa grazie anche alle aziende che dedicarono a loro tutta una serie di costumi dolci e gadget trasformando la festa di halloween in un affare commerciale la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre qui in america si festeggia l'halloween una festività sentita da tutti gli americani le case vengono addobbate simbolo di questa festa e lei la zucca se la notte tra il 31 ottobre ed il primo novembre in tutta l'america si celebra la grande notte di halloween con i bambini che girano per le strade per il tipico dolcetto o scherzetto c'è una cittadina dove i festeggiamenti proseguono fino al 2 novembre questa cittadina è Salem capoluogo dell'essex nello stato del massachusetts conosciuta da tutti come la città delle streghe una fama dovuta ai processi delle streghe che avvennero nel 1692 i festeggiamenti a Salem prendono il nome di haunted happenings ovvero eventi stregati e chiaramente si svolgono tutti quando tramonta il sole grandi e piccini scendono nelle piazze nelle vie cittadine ad animare la più grande festa stregata che ci sia a chiudere i festeggiamenti di halloween a Salem è il gran ballo delle streghe durante il quale si può vedere ed ascoltare un rituale sagro di tamburi molto suggestivo e adatto alla tematica spaventosa e accattivante che rende questa città così speciale la nostra luna che torta buona fortuna con amore sull'aradio Grazie a tutti